Io penso che nel futuro non avremo una sola lingua con la quale comunicare, ma ci sarà una sola lingua per ogni attività che dobbiamo svolgere. Proprio come la globalizzazione, che è un mischiarsi di culture, cercheremo di tirare fuori da queste culture l'eccellenza. Per esempio i trattati tecnici nel mondo saranno scritti in inglese, perché è una lingua molto sintetica. Oppure il francese per scrivere i romanzi, perché è questa lingua rotondeggiante. Potremmo scrivere soltanto favole in norvegese. Il napoletano come unica lingua per cantare canzoni melodiche. E questo è quello che penso di quello che accadrà nell'uso delle lingue nel futuro. La mia lingua sarebbe la musica. La capacità di trasformarsi ai ritmi della vita di ogni giorno.